I moduli antincendio boschivo che l'Agenzia regionale di protezione civile si appresta a consegnare alle organizzazioni di volontariato convenzionate per le medesime attività sono costituiti da una cisterna da 400 litri, un corpo motore e pompa caratterizzati da 23 cavalli di potenza con una motopompa che è in grado di erogare 140 litri al minuto a 50 bar. Abbiamo due naspi, uno raccordato a tre ottavi in nesto rapido per gli interventi puntuali di bonifica un ulteriore avvolgitore che raccoglie delle manichette con diametro da 25 mm ad alta pressione per sopperire a fronti fiamma di notevole intensità.